Buonasera, abbiamo convocato questo congresso stampa per presentare al resto del mondo e al resto d'Europa il nuovo acquisto dell'Uvertus Football Club. Abbiamo conquistato e strappato ai grandi club internazionali, un giocatore di livello strepitoso, dal calibro di Paulinho, direttamente dal Brasile, l'abbiamo prelevato dal San Paolo, pensate, l'abbiamo strappato alle concorrenze di livello di Milan, Inter, Chelsea, e adesso c'è la presentazione ufficiale di questo nuovo giocatore brasiliano per la stagione della Juventus. Presidente, nuovo sponsor, bravo Paulinho, con il numero 11, Paulinho, Paulinho, cercherò di fare molti gol. Ok. Ora ci darà il saggio del suo talento con la palla. Grazie a tutti. Grazie a tutti.